Bene amici, lui è Huawei MateBook 14S e come sempre applauso a Huawei per come costruisce i PC veramente tutti quelli che provo tendenzialmente mi piacciono molto ben bilanciato, molto bella la scocca, i materiali completamente in alluminio c'è una differenza rispetto ai MateBook di precedente generazione ovvero la cam è messa qua, questo permette il riconoscimento facciale per lo sblocco ma io preferisco utilizzare il pulsante di accensione che è anche il riconoscimento biometrico che è più sicuro ma andiamo subito a parlare di porte qua da questa parte una usb e tipo A ci manca secondo me un lettore di schede sd ci sarebbe stato veramente bene da quest'altra parte invece due porte usb di tipo C sono le versioni top, quindi i7 che ho io una è Thunderbolt 4 ma comunque anche nelle versioni inferiori uscita video, ingresso per l'alimentazione scambio file veloce sono comunque garantiti e qua c'è l'HDMI con il jack per le cuffie e per il microfono vi dicevo la cam è lì, al posto della cam c'è un pulsante che mi piace molto utile, è il pulsante per attivare l'inserimento vocale ve lo faccio vedere subito perché mi è piaciuta la precisione del testo guardate io sto dettando direttamente al computer mi posso anche allontanare un pochino e lui continua a capirmi proprio perché ha quattro microfoni oltre a quattro altoparlanti woofer, twitter da una parte, woofer, twitter dall'altra il che consente di utilizzare molto bene le video call anche se non siamo proprio vicinissimi adesso stop la riconoscimento del testo sennò farei un papiro qua su blocco note e come vedete il riconoscimento è stato anche decisamente preciso no, non voglio salvare le note e già che sono qua e sto utilizzando il trackpad della tastiera vi dico due cose la tastiera è una delle più belle tastiere provate sui notebook ultimamente perché mi piace tantissimo il feed del tasto ma anche quanto scende il tasto quando andiamo a scrivere e la rigidità di dove andiamo a scrivere molto molto bene tra l'altro retroilluminato due livelli di illuminazione ecco forse quella critica è che quando lo lasciamo in stand by dopo un tempo che possiamo personalizzare possiamo anche non farla spegnere mai ma si spegne e per riaccendersi non basta toccare il touchpad ma bisogna toccare un tasto ma caspita se io non voglio inserire testo devo toccare il tasto a volte faccio disastri quando sono al buio vabbè inezie su una tastiera che veramente mi è piaciuta tantissimissimissimo il trackpad invece torniamo nella media comunque buona dei trackpad forse non è piaciuto tanto che il click non è bellissimo che scende un pochino troppo quando si va a cliccare e la precisione è buona ma non eccezionale perché vado a cercare i peli nell'uovo? perché questo comunque è un pc top di gamma come vedete certificato Intel Evo con i7 16GB di RAM 1TB di SSD velocissimo ecco quello mi è piaciuto veramente tanto guardate ho fatto il benchmark della velocità veramente tra i più veloci montati sui notebook che ho provato ultimamente forse quello che non mi fa impazzire è che è partizionato 200GB su partizione C 800 su partizione D è vero che possiamo modificare questa cosa però a me è una partizione che non fa impazzire ripeto anche qua pelone nell'uovo invece quello che mi è piaciuto tantissimo sulla velocità poi ve ne parlo dopo è il fatto che è un sistema pulito cioè quando lo si toglie dalla scatola come si dice out of the box non ci sono delle applicazioni terze parti preinstallate che vanno a rompere le scatole penso spesso si trovano antivirus ma ancora ancora l'antivirus quanto alle suite degli antivirus che diventano pesanti che costringono magari abbonamenti che quando andate a disinstallare vi chiedono 62 volte ma siete sicuri? ma dai ma con 2 euro quella roba lì mi fanno girare le scatole qua invece non c'è nulla di quello c'è solo il software di Huawei preinstallato ma che è funzionale all'utilizzo del computer e tra l'altro lo va a integrare in quel ecosistema Huawei che sta crescendo e che mi piace veramente tanto visto che ho in prova anche il MatePad da 11 pollici quindi il tablet magari farò vedere l'integrazione comunque vedete possibilità di collegamento al display wireless soprattutto quello di Huawei che mi era piaciuto tanto andate a vedere la recensione ma anche il collegamento veloce al telefono allo smartphone vedete qua lo sta cercando backup delle foto backup dei video hotspot istantaneo quando si va ad abbinare un telefono basta schiacciare qua e si va direttamente in tithering Huawei Share per condividere file e poi comunque una possibilità di andare a vedere subito lo stato dei driver se sono aggiornati andare a ottimizzare le prestazioni attivare le prestazioni elevate o lasciarlo in bilanciato che tra l'altro è già super prestante e andare a vedere le informazioni sull'argo insomma un'applicazione che comunque è utile ma proprio di prestazioni direi che è il tempo e l'ora di parlare prima di tutto del display display che è una delle cose che mi è piaciuta di più di questo portatelo vi metto subito a tutto schermo il classico video che utilizzo come benchmark l'umidosità molto elevata 400 nits anche all'aperto si vede bene ma soprattutto guardate che bei contrasti pur non essendo un OLED lui è un 14,2 pollici PS laminato ha un refresh rate di 90 Hz avete visto l'angolo di visuale come è buono i neri non diventano grigini quando lo incliniamo particolarmente e oltre a essere 90 Hz è anche touchscreen quindi possiamo usare tranquillamente fino a 10 dita perché input ha 10 tocchi ma l'altra cosa che mi piace è il rapporto di forma perché lui è 3 a 2 tra l'altro risoluzione alta 2540x1620 e questo form factor 3 a 2 permette di utilizzare molto bene tutti quei programmi soprattutto Office è lo stesso rapporto di forma ma che ha il Surface Lab Book un altro notebook che a me piace tanto e questo rapporto di forma mi piace veramente molto di più dei 16 noni che vanno bene per quando guardiamo magari dei contenuti multimediali ma in tutti i contesti veramente di lavoro sono più scomodi perché è un'interfaccia più schiacciata è meno comoda rispetto a un'interfaccia un pochino più quadrata vi parlo un po' di prestazioni lato Wi-Fi ottime guardate quasi 800 Mb in download in Wi-Fi ovviamente 6 Bluetooth 5.1 nessun problema ad aprire 600.000 schede di Chrome ma direi di andare sul mio solito benchmark che è Premiere ci ho montato tutto questo video di questa bicicletta pazzesca tra l'altro una bicicletta super super smart una bicicletta che oserei dire quasi all'infotainment guardate solamente qua lo schermo della bici e nessun problema anche a montare il 4K ovviamente non è una scheda video separata ha l'integrata dei processori i7-11 generazione la Iris Xe che abbiamo provato nel tempo su vari device e comunque per un utilizzo anche abbastanza spinto va bene anche per i videogiochi se non vogliamo una grafica esasperata poi con i 90Hz con i videogiochi qua va abbastanza a braccetto ovviamente non aspettatevi le prestazioni di una Nvidia integrata ma lì è proprio altra storia per quanto riguarda la batteria due cose che mi sono piaciute l'alimentatore 90W non piccolissimo ma neanche grandissimo e soprattutto uscita tipo C alimentazione tipo C quindi con questo alimentatore potrete caricarvi anche tablet smartphone eccetera 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 e poi la durata la batteria abbastanza buona me l'ero segnata qua nelle note ma me la ricordo anche a memoria vediamo un po' se trovo la nota ecco qua blocco note siamo attorno no ce la vuoi sul desktop dov'è 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 qua dai che ce la faccio ok batterie 5 ore utilizzandolo con il rendering tra l'altro l'altra cosa che mi è piaciuta la gestione delle ventole non ventola mai dopo un quarto da di rendering si partono ma sempre silenziose quindi questa è una cosa che mi è piaciuta veramente tanto 6-7 ore di uso Office che per una batteria da 60 wattora direi che ci stanno si carica velocemente un'ora un quarto è carico al 100% altra cosa mi è piaciuta mi sono dimenticato di dirvelo mentre vi facevo vedere il video youtube l'audio alzo al massimo gli altoparlanti sono qua sotto vedete uno di qua o di là il che porta se lo appoggiate su superficie assorbenti a una diminuzione della potenza delle casse però se avete una superficie riflettente invece questo amplifica nella media comunque sono dei buoni dei buoni altoparlanti prezzo perché tutto mi è piaciuto il prezzo non è bassissimo però non è neanche esagerato perché la versione con l'i5 8 giga di ram 512 1199 euro vi ricordo questo non è certificato intel evo se volete quello certificato intel evo che sostanzialmente certifica che si è davanti a un computer delle prestazioni top quindi i 7 16 1 tera si passa di listino 1499 euro in realtà in offerta 1399 in questo momento in cui io giro la recensione spesso sul sito di Huawei ci sono offerte quindi andate a dargli un occhio perché si arrivano anche a sconti superiori e ripeto siamo nell'ambito dei computer alto di gamma lui è un computer alto di gamma ripeto per costruzione per prestazioni per display molto bello per anche dimensioni 1,42 kg quindi non è particolarmente pesante non è particolarmente grande per essere un 14 pollici perché Huawei allora aveva usato l'escamotage di mettere qua la cam per tenere le cornici sottili ma qua avendo messo comunque una cam non è particolarmente prestante 720p quindi non arriva al full HD ma per le video call va benissimo è comunque riuscita a mantenere un bordino abbastanza stretto insomma come al solito sui pc Huawei convince alla grandissima anche l'affidabilità software a me è arrivato con Windows 10 Home Edition gratuitamente lo sapete si può migrare all'11 allora l'ho fatto e tranquillamente non ci sono stati problemi di incompatibilità non è diminuita la sua affidabilità veramente anche la velocità nessun problema e l'ho usato poi la recensione l'ho fatta con Windows 11 ormai lo sto utilizzando da un paio di settimane proprio con questo sistema operativo quindi molto bene Huawei brava e appuntamento al prossimo video visto che ho questo tablet da provare con l'ecosistema come funziona e come si integra ciao